A volte capita che un cambiamento improvviso, una cattiva notizia, arrivino nella nostra vita e ci rendano l'esistenza più complicata. In quei casi pare che il mondo crolli e allora se permetti voglio dirti come rimanere lucidi quando crolla tutto. Naturalmente le cose non sono improvvise, nella natura c'è sempre la gradualità e allora, forte di questa conoscenza, ti invito, prima della trasformazione, a distinguere le apparenze dalla sostanza, quindi un lutto, quindi una cattiva notizia, quindi una crisi economica, non appaiono da un momento all'altro. Prima della trasformazione, quando ti sembra che tutti siano immortali e che tutte le economie del mondo siano perfette e che tutte le cose vadano nel migliore dei modi, ti invito a distinguere le apparenze dalla sostanza. Quando arrivi a capire questo, allora devi anche procedere in una direzione molto importante, devi scegliere di essere etico nonostante le trasformazioni. Su questo pianeta, nella forma fisica, ci sono dei cambiamenti, un giorno piove, un giorno c'è il sole, un altro giorno c'è vento, poi c'è un pochino di sole, poi c'è meno sole, poi c'è più sole e così via. Ci sono civiltà che si consolidano, trionfano, poi decadono, ci sono sconosciuti che si incontrano e si innamorano, ci sono soci d'affari che trovano modo per creare nuovo business e poi cambiano idea. Tutto questo è trasformazione, quindi non è una novità se domani capita a te di morire, o se capita a te di innamorarti, o se capita a te di introdurre un cambiamento. Quando ti sembra che non ci siano novità e in realtà tutti i giorni muore qualcuno, qualcun'altro si innamora e nascono imprese come crollano altre imprese, in quel periodo di apparente nulla, che in realtà, ripeto, è densissimo di vita, distingui le apparenze dalla sostanza e scegli di essere etico nonostante le trasformazioni, cioè scegli di rappresentare un primato di chiarezza, di idee, di altruismo, per rendere questo pianeta più accogliente nonostante le trasformazioni. Questa è la preparazione fondamentale per rimanere lucidi quando crolla tutto. Succede poi che all'improvviso non si sa quando effettivamente crolla qualcosa, c'è una trasformazione. Che fare? Durante la trasformazione accetta la trasformazione. Non metterti a discutere questa legge che ti ho appena detto, ossia che sul pianeta Terra in forma fisica un giorno c'è sole, un giorno c'è pioggia, un giorno ci si innamora, un giorno si trovano altre strade. Fa parte della trasformazione. Accetta la trasformazione. Non opporre una resistenza mentale, emotiva, che ti rende tutto molto più complicato. Ti pone di traverso nel flusso degli eventi e così rimani travolto. Durante la trasformazione accetta la trasformazione. Quando piove usa l'ombrello. Non stare lì a pensare a come sarebbe se ci fosse il sole. Quando c'è il sole non usare l'ombrello. È semplice. Accetta la trasformazione. Accetta il fatto che ci sia questa regola. Che le forme esteriori si trasformano. E infine, per rimanere lucido, dopo la trasformazione attiva nuove situazioni in cui scegli di essere etico nonostante le trasformazioni. Questo è fondamentale. È una tua scelta. Quella di introdurre equilibrio, amore, verità, bellezza, civiltà, nella trasformazione continua a cui è sottoposta la materia. Crea un bel giardino. Un giardino è uno spazio arbitrario, però esteticamente molto valido. Anche dipingere un quadro, anche scolpire, è un'azione arbitraria perché prendi dei sali, li mescoli con delle sostanze e ottieni dei pigmenti con cui dipingi. Oppure usi un'azione forte, molto violenta, come un colpo di martello, di scalpello, e ottieni una statua perfettamente liscia. È un atto arbitrario, ma è un atto etico, perché crei bellezza. Quell'opera d'arte trasmette ispirazione. Nonostante la trasformazione, attiva nuove situazioni in cui scegli di essere etico, in cui ripristini il primato di amore, verità e bellezza che tu sei, che tu, in quanto essere umano, conservi al di là della trasformazione della materia. Diventa consapevole di questo e così riesci a rimanere lucido anche quando crolla tutto.